Allora, ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi andiamo a fare le pulizie insieme, nello specifico andrò a stirare, a pulire il filtro della cappa, insomma vabbè, a fare qualche altra pulizia. Prima di lasciarvi al video ringrazio tutti i nuovi iscritti, ripeto mi fa piacere, potessi, vi ringrazierei una a uno. Quindi vi lascio subito al video. Prima vorrei fare una considerazione, ho detto che andrò a stirare, allora due premesse. Punto numero uno, io non stiro mai, mai mai mai, perché allora io mi faccio il bucato del mio a parte, perché mi piace insomma profumarlo come piace a me, insomma fare un po' come piace a me, e quindi io la roba mi piace, la tendo perfettissimamente, la riprendo, la ripiego subito, e quindi questo mi impedisce di dover andare a stirare sempre. Ovviamente ci sono tessuti grinzosi di suo che dovrò stirare per forza. Quindi io quando vado a stirare, nel 98% dei casi, stiro la biancheria di casa, insomma, delle altre persone e non la mia. Infatti anche oggi andrò a stirare la biancheria non mia. Ultima considerazione, cioè seconda considerazione, io non sto dicendo come si stira. Non sto dando consigli perché sicuramente non sono perfetta nel farlo, anche facendolo poche volte, però ecco è un momento di condivisione insieme. Quindi davvero questa volta vi lasso al video. Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti